Buongiorno, mi trovo al centro Rizza di Medicina Naturale, dove opero la mia pratica psicoterapeutica con i pazienti tutti i giorni. Sono la dottoressa Marazzine e tengo anche una rubrica su Rizza Psicosomatica che riguarda i sogni. Oggi vorrei parlare della solitudine, quindi dietro a questa paura della prigionia si nasconde appunto la paura della solitudine, che molte persone associano a una condizione che può portare a un certo squilibrio mentale. Ecco, in realtà attraverso la solitudine si velocizzano dei processi di contatto con il mondo interno, per cui si amplificano i moti emotivi e le sensazioni che proviamo. Però una volta che riconosciamo queste sensazioni e le accogliamo, può essere che questo mondo interno si possa rivelare un alleato e ci possa anche in qualche modo svelare dei suggerimenti e dei consigli che potrebbero esserci utili nella nostra vita. Quindi può essere un momento di incontro con qualcosa di inesplorato che in realtà è un nostro alleato più prezioso. A tal proposito Marie-Louise von Franz, che è una grande allieva di Jung, si era interessata delle letture che parlavano di questi monaci buddisti che andavano nel deserto proprio per trovare la solitudine e amplificare questo rapporto con la spiritualità. Così anche lei racconta un aneddoto dove ha provato a ricreare questa sorta di isolamento andando in una baita in montagna. Per cui la prima settimana si era chiusa in questa baita, però tutto sommato la sua vita procedeva tranquillamente, andava al villaggio, faceva la spesa, parlava con qualcuno e questa routine non le sortiva nessun effetto. Così ha pensato bene di rincalare la dose, dunque si è fatta scorta, ha smesso di andare a fare la spesa e si è chiusa in casa senza aver più rapporti con nessuno. Ecco i primi giorni era abbastanza tranquilla, dopo il quarto e il quinto giorno ha iniziato ad avere una certa inquietudine. Per prima cosa le lancette dell'orologio si erano come fermate, non passavano mai e il fatto di poter scrivere, di leggere eccetera, non erano più attività che riuscivano a coinvolgerla, non riusciva più a concentrarsi. Ha iniziato ad essere molto inquieta, non vedeva l'ora di fare le piccole cose, tipo di cucinare, però le ore non passavano mai. E poi a un certo punto è arrivata una grande paura, è arrivata la paura di essere saccheggiata, temeva che dei ladri potessero andare a saccheggiare la sua casa, a derubarla, che potessero farle del male. Così ha barricato la porta e ha iniziato a sviluppare questa grande angoscia. Dopo due giorni ha detto basta, io adesso non ce la faccio più, prendo e me ne vado a casa. Nel momento in cui si diceva me ne vado a casa, si è resa conto che aveva in qualche modo sortito l'effetto che voleva, cioè questa grande paura era un primo approccio al mondo interiore che appunto stava facendo capolino. Così si è fermata e ha iniziato ad accogliere questa paura e l'ha personificata, l'ha trasformata in un'immagine di una presenza con cui poteva dialogare. Grazie a questo tipo di tecnica la Bonfranze è riuscita poi a stare nella Vaita ancora due settimane e poi se n'è andata. E ricorda questo momento, un momento molto particolare della sua vita, dove c'è stata quasi una svolta, come se da quel momento fosse più a casa con se stessa, come se finalmente avesse potuto aprire le porte fino in fondo del mondo interiore e lì ha trovato un amico, ha trovato un compagno di viaggio, ha trovato una presenza saggia che in qualche modo poteva prenderle la mano e accompagnarla lungo il percorso della sua vita. quindi non si sentiva più sola ma a suo agio con se stessa e con un senso di familiarità a un certo punto ovunque si trovasse. Ecco e voglio concludere con una celebre frase degli alchimisti che dice proprio questo. Chiunque sia solo, isolato dalla folla e non possa unirsi agli altri, troverà un amico interiore che lo guiderà. Quindi questa angoscia che ci assale nei momenti di solitudine è un primo step, è una prima fase e se abbiamo la pazienza di stare accogliendo queste sensazioni, allora avremo la sorpresa di trovare dentro di noi una guida, una presenza, un compagno di viaggio che ci può sempre supportare.